Cristo, nostra pace, guidare il cammino, tu conduci il mondo all'area di libertà. Tu non temeremo, se tu sarai con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. 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 Non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di Lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Ringhiamo grazie a Dio. Acclamiamo insieme al Dio della salvezza. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Oh Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i Suoi che sono prigionieri. A Lui cantino l'odi i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta, se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio. Alleluia, 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.